mondo creativo edizione 2014 sono seduto a un tavolo di lavoro in compagnia di Gaia Segattini Gaia Segattini la conoscono tutti soprattutto chi gira per questo mondo virtuale ma anche reale della creatività allora Gaia benvenuta grazie mille allora siamo seduti qua perché ti abbiamo disturbato in un momento in un momento di lavoro sei a Bologna sei tornata a Bologna in questo caso sembra siamo vicini al Natale sembra quasi un lavoro natalizio che cosa che cosa porti alle tante persone che ti fermano ti che ti vengono a salutare anche ho visto che fai anche workshop in questi giorni insomma che cosa che cosa la tua creatività che cosa ha creato allora la cosa che mi piace fare a me principalmente oltre l'uncinetto è il riciclo legato all'abbigliamento è legato comunque al tessile quindi cucito principalmente e riproposizione customizzazione personalizzazione colore e forme semplici tecniche immediate quindi facilità sicuramente idee ironiche che colpiscano ragazze giovani o donne un po più grande ma che non hanno perso il senso dell'umorismo e quindi se sei qua vedo che hai una ghirlanda in questo caso che cosa che cos'è questa è una ghirlanda fatta con riciclando una vecchia maglia un vecchio maglione magari anche quello del vostro marito fidanzato che non ci piace allora facciamo finta che è andato ha avuto un un problema nella lavatrice in realtà l'abbiamo utilizzato noi perché ce ne vogliamo liberare e niente si taglia semplicemente a petali e con degli spilli si ricopre una forma già fatta di polistirolo il problema che io ho con questo tipo di lavori creativi e quando tu dici semplicemente è davvero così semplice bisogna avere delle tecniche di base allora so che tutti dicono semplicissimo e poi non è assolutamente vero spesso così nel mio caso è veramente semplice perché comunque rubare un maglione del marito è facilissimo tagliarlo è facilissimo tagliarlo con una forma a petalo altrettanto infilare uno spillo in una forma di polistirolo insomma è più l'idea che la tecnica ecco in questo caso tra il dire il fare quanto ci vuole per fare un lavoro del genere un'ora 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 e mezza massimo a poi dipende dalle dimensioni un'ora e trenta si riesce a fare una ghirlanda di natale pronta all'uso quella di verde che più natalizia si si tranquillamente poi si può questo come base poi si può personalizzare mettendogli ad esempio delle perle dei piccoli pompon che simulano delle bacche o si possono invertire dei colori cambiare materiali insomma perché no insomma mi sembra di aver capito che si può tutto nel mondo della creatività a chi ti dice che non sono io non sono un creativo tu cosa rispondi allora nessuno pensa di saper fare niente finché non comincia innanzitutto e tutti prima di cominciare si sono sentiti negati si sono sentiti incapaci è una ginnastica come tante poi ci saranno chiaramente delle tecniche per cui siamo più portati e altre di meno però cominciare e realizzare subito qualche cosa di decente diciamo così è assolutamente possibile per tutti da tanti anni tu realizzi questi con questi lavori hai un blog e parli con tantissima gente c'è tante persone che ti seguono hai scritto anche era ora di mettere di scrivere anche qualcosa è scritto un libro rinnova il tuo guardaroba cosa si trova qua dentro allora rinnova tu guardaroba appunto è un sono tutta una serie di progetti molto semplici molto ironici colorati su come personalizzare customizzare il proprio abbigliamento in veramente in poche mosse cioè di solito proprio il classico tipo di idea che tu dici ah ma come ha fatto non averla io perché sono cose veramente molto molto immediate e di facile realizzazione come ti nascono le idee a te non saprei non saprei sono sempre stata una persona molto 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 curiosa e mi piace molto quando imparo una tecnica sperimentarla cambiando colori cambiando materiali cambiando anche dimensioni del dei materiali che utilizzo avendo quindi risultati completamente diversi cioè di solito si lega sempre un un materiale ad un utilizzo e quello che io riesco a che riesco che mi piace fare è quello invece di di sganciare completamente la cosa mi sembra anche da vedere le immagini che siano progetti idee economiche nel loro nel svilupparsi e con soprattutto con materiale che non è difficile reperimento io sono considero ricci quando si parla di riciclo a volte si trovano progetti di cui magari la base anche economica poi dopo devo andarmi a comprare utensili o materiali aggiuntivi costosissimi o di facile reperimento questo secondo me non è realmente riciclo è un altro esercizio di creatività in questo caso qua appunto bastano veramente i capi che abbiamo in casa forbici filo e idee basta perché ti volesse seguire dove ti trova allora il mio sito principale è www vendetta uncinetta.com conoscono per come vendetta uncinetta sia questo nome veramente che diciamo che rimane in mente e di solito fa sempre ridere tutti a me questa cosa fa molto piacere e poi da lì ci sono i link a tutti i miliardi di social network che ho miliardi di cose che fa sì miliardi di cose che faccio perché faccio moltissime collaborazioni con le aziende progetti scrivo da workshop mi occupo di organizzazione di eventi di questo settore insomma grazie davvero e buona creatività allora grazie a te prossima volta ti voglio con l'uncinetto proviamo